www.parizopoli.it, la clausola CACS che vale anche per il BTPI d'Italia appena collocato sul mercato. CACS è un acronimo che sta per clausola di azione collettiva. Queste clausole riguardano la possibilità che uno Stato, in casi estremi, lo Stato che ha emesso un'obbligazione, possa chiedere agli obbligazionisti di accettare un taglio del valore nominale del titolo, oppure la riduzione dell'accedola o l'allungamento delle scadenze. Il CACS è stato introdotto nel 2013 e voluto da Bruxelles nel meccanismo europeo di stabilità. I governi dei Paesi membri dell'Unione Europea possono apporre fino al 45% dei titoli di Stato con durata superiore ai 12 mesi, quindi non riguardano quelle scadenze brevi tipo i bot e quindi dal 2022 sono inserite anche su tutti i BTPI emessi, compreso i BTPI Italia. Alla prossima!